sia. Pittori attorno a Moretto tra rinascimento e controriforma. Il comune di Trento promuove una serie di iniziative per far conoscere l'arte. In mostra le opere a Palazzo Tun fino al 5 di gennaio. Francesca Quattromani. Fino al 5 gennaio la città di Trento ospita la mostra Pittori attorno a Moretto tra rinascimento e controriforma alla Cappella Avantini di Palazzo Tun con ingresso da Via delle Orne. Una mostra che raccoglie opere preziose per la prima volta esposte al pubblico e studiate dagli esperti che raccontano l'immagine della vivacità della cultura bresciana e dei suoi apporti alla storia dell'arte in un momento complesso come quello della metà del Cinquecento, epoca nella quale Trento è stata polo di attrazione delle migliori menti del tempo e le discussioni su religione politica e Stato ospitando il concilio. Cosa racconta questa mostra? Racconta un periodo dell'arte che va tra dal primo Cinquecento fino alla fine del Cinquecento e mette in evidenza quelli che sono i caratteri che hanno contraddistinto una cultura come quella bresciana tra Moretto e Romanino e quindi fa vedere gli sviluppi che ci sono stati in questa cultura attraverso quegli artisti che sono chiamati fondamentalmente i Moretteschi. Trento conserva opere di maestri bresciani del Cinquecento come i magnifici affreschi del Castello del Buon Consiglio di Girolamo Romanilo e le tele di Giovanni Battista Moroni allievo di Alessandro Bonvicino. Detto il Moretto, una mostra questa di Palazzo Thun che è stata possibile grazie alla collaborazione tra pubblico e privato. Siamo riusciti a proporre questa mostra alla cittadinanza grazie all'interessamento e alla proposta che ci viene dal privato e in particolar modo dalle generali sezioni di Trento e un'agenzia che ci ha proposto questa mostra da offrire ai cittadini. Siamo sempre stati vicini a tutte queste iniziative di valorizzazione del patrimonio storico e culturale per cui ci sembrava un'occasione di pregio promossa dal Comune e alla quale noi abbiamo dato il sostegno proprio per valorizzare queste cose che danno un grande valore al nostro Paese come nazione e anche nell'ambito internazionale.